Dai messoli di legno dai quali la fiera appunto prende il nome ma che di anno in anno sono sempre meno presenti al cibo dai casalinghi all'abbigliamento. L'arena Eden e le strade limitrofe hanno infatti nuovamente accolto gli ambulanti della tradizionale fiera del messolo che resteranno sino al prossimo 11 settembre. Oltre 250 i banchi sbarcati in città per uno degli eventi più attesi dagli aretini. Una manifestazione che nel corso degli anni si è profondamente trasformata, nata come mostra dei talenti e dell'ingegno, oggi al suo interno infatti sempre meno spazio trovano i manufatti artigianali. Sempre più protagoniste invece le delizie di ogni tipo e da tutta Italia, dai prodotti tipici come la porchetta e i brigidini passando per il pesce fritto e le olive, presenti come sempre anche gli stand di abbigliamento, calzature, bigiotteria, pelletteria e casalinghi. Per le vie e le piazze del centro storico, come ogni anno, tantissimi gli aretini che sono arrivati dai quattro angoli della provincia per un giro tra gli stand, presente come sempre infine anche il calcit con il messolino della fortuna. Il ricavato sarà destinato al progetto scudo per i pazienti oncologici.